Lo sapevate che Gyozune Beresiartu incomincia ad arrampicare a 17 anni mostrando già un enorme talento in quanto raggiunge in pochissimo tempo il livello di 8A. Nel 1997 scala il suo primo 8B+, ma l'esplosione sulla scena mondiale arriva però nel 1998 quando, con la ripetizione di Onky Tonky in Spagna, diventa la prima donna al mondo ad infrangere la barriera dell'8C. Il suo talento però non finisce qui, perché dopo aver salito Noia ad Andonno nel 2001 arriva il 9A di Bindesang, liberato da Fred Nicolne 93. Con la sua ripetizione Beresiartu si è scolpita a un posto privilegiato nella storia dell'arrampicata sportiva diventando la prima donna al mondo a salire il mitico grado di 9A. Primo 8C femminile, primo 8C più femminile, primo 8B più femminile a vista nel 2006. Ha salito 76 vie tra l'8A e il 9A.